Capitolo 51 di Samar Khan Or venne che Gigatai fu morto. E gli saracini, vedendo morto il Signore, abiendo ira di quella pietra, la vollero torre per forza. E poteallo fare, che erano dieci cotanti che gli cristiani. E mossor sia il quanti saracini, e andarono agli cristiani, e dissero che voleano questa pietra. Gli cristiani la voleano comperare ciò che ne voleano, gli saracini dissero che ne voleano se non la pietra. E a lotta li signoreggiava lo grande cane, e comandò agli cristiani che in fra due die li rendessero la loro pietra. Gli cristiani, udendolo comandamento, funno molto tristi, e non sapeano che si fare. La mattina che la pietra si dovea cavare di sotto dalla colonna, la colonna si trovò alta di sopra alla pietra bene quattro palmi, e non toccava la pietra per lo volere del nostro Signore. E questa fue tenuta grande meraviglia, e è ancora, e tuttavia vistette poscia la prieta. Or lasciamo qui, e diròvi di un'altra provincia che a nome Carcam. Capitolo 52 De Carcam Carcam è una provincia che dura cinque giornate, e adorano Macomento, e sonvi cristiani nestorini. E sono al grande abbondanza d'ogni cose, Quivi non ha altro da ricordare. Or lasciamo qui, e diremo di Kotam. Capitolo 53 Di Kotam Kotam è una provincia tra Levante e Greco, e dura otto giornate. E sono al grande cane, e adorano Macomento tutti. E va a castella e città assai, e son nobile gente, e la migliore città è Kotam, onde si chiama tutta la provincia. Quivi ha e bambagia assai, vino, giardini, tutte cose. Vivono di mercatantia e d'arti, non sono da armi. Or ci partiamo di qui, e andiamo a un'altra provincia che a nome Pein. Capitolo 54 Di Pein Pein è una piccola provincia che lunga cinque giornate tra Levante e Greco. E sono al grande cane, e adorano Macomento. E va a castella e città assai, e la più nobile è Pein. Egli hanno abbondanza di tutte cose, e vivono di mercatantie ed arti. E hanno cotal costume che quando alcuno uomo, che a moglie, si parte di sua terra per stare venti die, come egli è partito, la moglie può prendere altro marito per l'usanza che v'è. E l'uomo, ove vae, può prendere altra moglie. Altre sì, sappiate che tutte queste province che io vo contate da Cascar in fine a qui, sono della Grande Turchia. O lasciamo qui, e conteròvi d'una provincia chiamata Ciarcian. Capitolo 55 Di Ciarcian Ciarcian è una provincia della Grande Turchia tra Greco e Levante, e adorano Macomet, e avi castella e città assai, e la mastra città è Ciarcian, e va a fiume che mena di aspido e calciadonio, e porta alle a vendere aucatà, e hanno ne assai e buoni. E tutta questa provincia è Sabione, ed ecotam a Pein altresì Sabione. E evi molte acque amare e ree, e ancora va delle dolci e buone. E quando l'uomo si parte di Ciarcian, va bene cinque giornate per Sabione, e avi di male acque e amare, e avi delle buone. E a capo delle cinque giornate si trova una città che è a capo del grande diserto, ovve gli uomini prendono vivanda per passare lo diserto. Or vi diremo di più inanzi. Capitolo 56 di Lop Lop è una grande città che è all'entrata del grande diserto, che chiamo lo diserto dell'Op, e è tra Levante e Greco. E sono al grande cane e adorano Macometh. E quelli che vogliono passare lo diserto si riposano in Lop per una settimana per rinfrescare loro e loro bestie. Poscia prende vivande per uno mese per loro e per loro bestie. E partendosi di questa città entra nel diserto e è tamanto che si penerebbe a passare bene uno anno, ma per lo minore luogo si pena lo meno a trapassare uno mese. Egli è tutto montagne e sabione e valle e non vi si trova nulla a mangiare, ma quando seito uno die e una notte si trova acqua, ma non tanta che ne avesse oltre cinquanta o cento uomini coloro bestie. E per tutto il diserto conviene che si vada uno die e una notte prima che acqua si trovi. E in tre luoghi o in quattro trova l'uomo l'acqua amara e salsa e tutte le altre sono buone che sono nel torno da ventotto acque. Non va né uccelli né bestie perché non vanno da mangiare. E si vi dico che qui vi si trova tal maraviglia. Egli è vero che quando l'uomo cavalca di notte per quel deserto egli avviene questo che se alcuno rimane adrieto dagli compagni per dormire o per altro quando vuole poi andare per giugnere gli compagni ode parlare spiriti in aire che somigliano che siano suoi compagnoni e più volte è chiamato per lo suo nome proprio ed è fatto di sviare talvolta in tal modo che mai non si ritrova e molti ne sono già perduti e molte volte ode l'uomo molti istormenti in aria e propriamente tamburi e così si passa questo grande deserto. Or lasciamo del deserto e diremo delle province che sono all'uscita del deserto. capitolo 57 della grande provincia di Tanguk all'uscita del deserto si trova una città che ha nome Sakion che è allo grande cane la provincia si chiama Tangut e adorano gli idoli ben è vero che gli va il quanti Nestorini e Avis Saracini La terra è tra Levante e Greco Quegli dagli idoli hanno per loro speziale favella non sono mercatanti ma vivono di terra Egli hanno molte badie e monasteri tutti piene d'idole di diverse fatte agli quali si fa sacrifici grandi e grandi onori E sappiate che ogni uomo che ha fanciulli fa enotricare uno montone a onore degli idoli A capo dell'anno ov'è la festa del suo idolo lo padre col figliuolo menano questo montone dinanzi allo suo idolo e fannogli grande riverenza con tutti gli figliuoli Poscia fanno correre questo montone Fatto questo rimenalo davanti all'idolo e tanto vi stanno che è detto loro ufficio e loro prieghi che li salvi li loro figliuoli Fatto questo danno la loro parte della carne all'idolo l'altra loro prieghi che li salvi i loro figliuoli Fatto questo danno la loro parte della carne all'idolo l'altra tagliano e portano a loro casa o altro luogo che gli vogliono e mandano per loro parenti e mangiano questa carne con grande festa e reverenza poi ricolgono l'ossa e ripongole in sopidiani o in casse molto bene e sappiate che tutti gli idolatori quando alcuno ne muore gli altri pigliano lo corpo morto e fannolo ardere e quando si cavano di loro casa e sono portati al luogo dove debbono essere arsi nella via gli suoi parenti in più luoghi hanno fatte certe case di pertiche o di canne coperte di drappi di seta ed oro e quando sono col morto dinanzi da questa casa si posano lo morto dinanzi a questa casa e quivi hanno vino e vivande assai e questo fanno perché si è ricevuto a cotale onore nell'altro mondo e quando lo corpo è menato al luogo ovedè essere arso quivi hanno uomini di carte intagliati e cavagli e camegli e monete grosse come bisanti e fanno ardere lo corpo con tutte queste cose e dicono che quello morto avrà tanti cavagli e montoni e danari e ogni altra cosa nell'altro mondo quant'egli fanno ardere per amore di colui in quello luogo dinanzi dal corpo e quando lo corpo si va ad ardere tutti gli tormenti della terra vanno suonando dinanzi a questo corpo ancora vi dico che quando lo corpo è morto si manda gli parenti per astronomi e indivini e dicoglielo die che nacque questo morto e coloro per loro incantesimi dei diavoli sanno dire a costoro l'ora che questo corpo si dee ardere e tengolo talvolta li parenti in casa quel morto otto die e quindici e uno mese aspettando l'ora che è buona da ardere secondo quelli indovini nemmai non gli arderebbero altrimenti tengono questo corpo in una cassa grossa bene uno palmo bene serata e confitta e coperta di panno con molto zafferano e spezie sicché no puta a quelli della casa e sappiate che quelli della casa fanno mettere tavola dinanzi dalla cassa ovel morto con vino e con pane e convivande come se gli fosse vivo e questo fanno ogni die fino che si ancora quegli indovini dicono agli parenti del morto che no è buono trare lo morto per l'uscio e mettono cagione di qualche stella che è incontra all'uscio onde li parenti lo mettono per altro luogo e tale volta rompono lo muro della casa dall'altro lato e tutti gli idoli del mondo vanno per questa maniera or lasciamo di questa e direnvi capitolo de camul camul è una provincia e già anticamente fu e reame e avi ville e castella assai la mastra città ha nome camul la provincia è in mezzo di due diserti dall'una parte è il grande diserto dall'altra è uno piccolo diserto di tre giornate sono tutti idoli lingua hanno per sé vivono de frutti della terra e hanno assai da mangiare e da bere e vendonne assai e sono uomini di grande solazzo che non attendono se no a suonare in istormenti e incantare e ballare e se alcuno forestiere vi va ad albergare egli sono troppi alegri e comandano alle loro mogli che li servono in tutto loro bisogno e il marito si parte di casa e va a stare altrove due di o tre e il forestiere rimane con la moglie e fa con lei quello che vuole come fosse sua moglie e stanno in grandi solazzi e tutti quegli di questa provincia sono bozzi delle loro femmine ma non si tengono a vergogna e le loro femmine sono belle e gioiose e molto allegre di quella usanza ora venne che al tempo di mogu cane signore de tartari sappiendo che tutti gli uomini di questa provincia faceano avvolterare loro femmine a forestieri incontanente comandò che niuno dovesse albergare niuno forestiere e che non dovessero avvolterare loro femmine e quando quelli di camul ebbero questo comandamento furono molto tristi e fecero consiglio e mandaro al signore uno grande presente e mandaro allo pregando che gli lasciasse fare la loro usanza e degli loro antichi però che gli loro idoli l'aveano molto per bene e per quello lo loro bene della terra è molto moltiplicato e quando mogu cane intese queste parole rispuose quando volete vostra onta e voi l'abbiate e tuttavia mantengon quella usanza o lasciamo di camul e diremo d'altre province tra maestro e tramontana capitolo 59 Kingitalas Kingitalas è una provincia che ancora è presso al deserto entro tramontana e maestro e è grande sei giornate e è del grande cane La salamandra non è bestia come si dice che vive nel fuoco che ne uno animale puote vivere nel fuoco ma diròvi come si fa la salamandra Uno mio compagno che a nome Zufi Kar è un turchio istede in quella contrada per lo grande cane, signore, tre anni e facea fare queste salamandre e disselo a me e era persona che le vide assai volte e io ne vidi delle fatte Egli è vero che quella vena si cava e stringesi insieme e fa fila come di lana e poscia la fa seccare e pestare in grandi mortai di covro Poscia la fanno lavare e la terra si cade quella che aveva piccata e rimane le file come di lana e questa si fila e fassine panno da tovaglie Fatte le tovaglie e le sono brune Mettendole nel fuoco diventano bianche come nieve E tutte le volte che sono sucide si pognono nel fuoco e diventano bianche come neve E queste sono le salamandre e le altre sono favole Anco vi dico che a Roma ha una di queste tovaglie che il grande cane mandò per grande presenti perché il sudario del nostro Signore vi fosse messo entro Or lasciamo di questa provincia e andremo a altre province tra Greco e Levante Quando l'uomo si parte di questa provincia l'uomo va dieci giornate tra Greco e Levante e in tutto questo non si trova se no poca abitazione né non v'è nulla da ricordare Di capo di queste dieci giornate è una provincia che è chiamata Succiur nella quale ha i castella e città di Asai Quivi ha i cristiani e idoli e sono al grande cane E la grande provincia Generaux ov'è questa provincia e queste due che io vi ho contato in arieto è chiamata Kangut E per tutte sue montagne si trova l'oreo barbaro in grande abbondanza e Quivi lo comperano gli mercatanti e portalo per tutto il mondo Vivon dal frutto della terra non si travagliano di mercatantie Or ci partiremo di qui e diremo di Campi Chon Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti